La magia dell'avena. Scopri come arricchire ogni pasto con questo super cibo. L'avena è più di un semplice ingrediente per la colazione. È un super cibo ricco di nutrienti che merita un posto di rilievo nella nostra cucina. Versatile e salutare, si presta a una vasta gamma di ricette, dal dolce al salato, trasformando ogni piatto in un'opera d'arte culinaria. Ma, prima di continuare con questo video, voglio invitarti a lasciare un bel like, in questo modo ci aiuterai a far crescere il canale e a prendere iniziative come questa. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perdere altri video come questo. Iniziare la giornata con energia è fondamentale, e il porridge d'avena con frutta fresca e semi è la scelta perfetta. Questa colazione non solo sazia per ore, ma apporta anche un'importante dose di fibre, vitamine e minerali, essenziali per affrontare la giornata con la giusta carica. Per uno spuntino pratico e nutriente, non c'è niente di meglio delle barrette di avena fatte in casa. Facili da preparare? Queste barrette sono l'ideale per chi cerca un'opzione salutare e gustosa da portare con sé durante le lunghe giornate fuori casa. Il latte d'avena è un'alternativa vegetale cremosa e deliziosa al latte tradizionale. Perfetto per chi segue diete vegane o è intollerante al lattosio, questo latte si prepara facilmente in casa ed è ottimo sia da bere che come base per smoothies e caffè. Rinnovare le insalate di tutti i giorni è semplice aggiungendo fiocchi d'avena tostati. Questo ingrediente non solo arricchisce il piatto con una croccantezza unica, ma apporta anche benefici nutrizionali, rendendo l'insalata più completa e soddisfacente. Integrare l'avena nei frullati è un'idea brillante per chi cerca nutrimento e gusto. Combinata con frutta fresca, offre un mix di fibre, proteine e vitamine, ideale per iniziare la giornata con energia. L'avena non è solo per la colazione. Può trasformarsi in un ingrediente sorprendente per piatti salati. Prova a includerla come base per creazioni culinarie uniche, dando vita a ricette originali e sostanziose. I dessert possono essere deliziosi e al tempo stesso salutari. Una torta di mele e avena non solo appaga il palato, ma fornisce anche un'ottima fonte di fibre, rendendola perfetta per una dolce conclusione di pasto. Il pane di avena è una scelta eccellente per chi cerca alternative più nutrienti. Morbido, ricco e facile da preparare, diventa il compagno ideale per ogni pasto, dalla colazione alla cena. L'avena può rivoluzionare anche la tua zuppa preferita. Usata per addensare, arricchisce il piatto con una texture vellutata e un valore nutritivo superiore, trasformando una semplice zuppa in un pasto completo e appagante. L'avena è l'ingrediente segreto per creare burger vegetali irresistibili e salutari. La sua texture e le sue proprietà eleganti aiutano a mantenere il burger compatto, arricchendolo di fibre e nutrienti. Preparare crackers di avena in casa è un modo semplice per avere uno snack croccante e nutriente a portata di mano. Questi snack sono perfetti per accompagnare formaggi o hummus. L'abbinamento di avena e legumi crea piatti proteici e gustosi, ideali per chi segue una dieta vegetariana o vegana. L'avena aggiunge una consistenza interessante mentre i legumi apportano proteine. Integrare avena e proteine in polvere nei frullati proteici può essere la chiave per un recupero muscolare ottimale. Questa combinazione fornisce energia duratura e aiuta nella riparazione dei tessuti. Creare la propria granola fatta in casa permette di controllare gli ingredienti, evitando zuccheri aggiunti e conservanti. Un mix di avena, frutta secca e spezie offre una colazione o uno snack pieno di sapore. L'avena è una scelta eccellente per chi cerca alternative più sane al latte tradizionale. Preparare un cappuccino con latte d'avena non solo aggiunge un tocco di dolcezza naturale, ma rende anche la tua pausa caffè più nutriente e digeribile. È una soluzione ideale per chi è intollerante al lattosio o semplicemente cerca di ridurre il consumo di prodotti di origine animale, garantendo un inizio di giornata energico e piacevole. Risotti innovativi con l'avena rappresentano un modo creativo per reinventare un classico della cucina italiana. Sostituire il riso con l'avena non solo apporta una consistenza unica e sorprendente al piatto, ma eleva anche il profilo nutrizionale, arricchendolo di fibre e proteine. Questa variazione offre un'esperienza culinaria nuova, soddisfacendo sia il palato che il bisogno di cibi sani e nutrienti. L'abbinamento di avena e cioccolato crea dolci irresistibili, come i brownies, che conquistano al primo assaggio. Questa combinazione non solo soddisfa la voglia di dolce, ma lo fa in modo più salutare, grazie al contenuto di fibre e nutrienti dell'avena. Perfetti per una merenda o come fine pasto, questi dolci rappresentano un'ottima scelta per chi non vuole rinunciare al piacere senza trascurare l'alimentazione. L'avena trova la sua strada anche nelle cucine internazionali, dove può arricchire e adattare ricette tradizionali con un tocco di originalità e benessere. L'integrazione dell'avena in piatti provenienti da diverse culture culinarie non solo testimonia la sua versatilità, ma apre anche la porta a nuove esperienze gastronomiche, unendo tradizione e innovazione in un viaggio di sapori unici e salutari. Ti ricordo che trovi tutte le ricette per preparare buoni gustosi piatti parlati nel video in descrizione. Siamo giunti alla fine di questo video. Ti ricordo che puoi iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche nei prossimi video in programmazione. A presto!